Le voci che si inseguono, che si rincorrono sono quelle di persone che vanno in giro promettendo posti di lavoro, promettendo qualche cosa nei lavori nelle partecipate, promettendo e dando soldi per quelli che decideranno di votare in un certo modo. Sono delle bruci veramente brutte. Sono persone che si approfittano dello stato di disagio, della situazione di debolezza, di povertà di tanti foggiani. Non è giusto. Per questo motivo penso che arriva il momento di prendersi una bella rivincita. Al momento del voto guardate negli occhi i vostri figli e sì, dite che voterete qualcuno, ma poi nel segreto dell'urna votate secondo scienza e coscienza.